Bentornati al villaggio di Gioele, l'Eurocamping Calvisio. Anche quest'estate vi aspettiamo in una nuova formula ma mantenendo i nostri servizi nel rispetto delle nuove norme anti-covid. Troverete tutte le indicazioni nelle zone principali della struttura oppure chiedendo al nostro staff. Se poi avete un camper o una tenda e volete il bagno privato nella vostra pezzola, qui si può. Appena arriverete al nostro villaggio vi accoglieremo nella nostra reception. Qui potrete fare il check-in e oltre alle informazioni in merito a tutti i servizi del villaggio vi verrà data anche la vostra chiave. Grazie. Con questa chiave potrete sia aprire le porte dei bagni privati delle piazzole oppure se siete nel residence la porta del vostro residence e poi potrete anche comodamente pagare perché da noi qui non circola con tante. E per chi non ci conoscesse ancora o non conoscesse i nostri servizi vi diamo un piccolo riassunto. La nostra reception è aperta 24 ore su 24. Il servizio è una vetta gratuito tutto il giorno dalla mattina alla sera. Vi potrà portare o in paese o al mare ed è in senso circolare. E le piscine, quella per i più piccoli e quella per i più grandi. Il solarium dove potersi rilassare. E se poi volete fare una pausa dal sole vi porto al bar. Avete detto animazione? Sì, sì, tranquilli. L'animazione ci sarà. Ci sarà con tante nuove attività. Allora partiamo, vabbè, con il consigliato risveglio muscolare e poi passiamo a fare delle belle passeggiate nel nostro territorio finalese. Per stare a contatto con la natura e se poi verso l'ora di pranzo vi va potrete competere per vincere un aperitivo. Il pomeriggio lo apriremo con dei giochi per i bambini al campo sportivo rigorosamente all'aria aperta. E poi continueremo con lezioni di fitness, di zumba, tonificazione, dulcis in fundo, un po' di meditazione con lezioni di yoga. La sera poi, certo, certo, ci saranno le canzoni del dragallo. I bimbi potranno ballare in tutta sicurezza perché balleranno ognuno nel loro hula hop. E poi cinema, e poi serate varietà, e poi voi sarete i protagonisti delle nostre serate. Insomma, che ne dite? Ci vediamo? E per i più grandi, come ogni anno, il nostro consueto appuntamento con Radio Giuhele, sia alla mattina che al pomeriggio. Potrete chiedere dediche o canzoni e io sarò lì ad accontentarvi. Se volete farvi una pausa a caffè o una pausa aperitivo, lo potete fare con il nostro bar aperto dalle 8 della mattina fino alle 23 della sera. Passiamo dalla colazione all'aperitivo serale e in mezzo troviamo dei gustosissimi franzi che potrete chiedere sempre qui e gustare nel nostro dehors. Se voi volete gustare piatti gourmet o le pizze al ristorante del Giuhele, eccoci qui. Qui troverete un'atmosfera calda e accogliente e familiare dove poter gustare veramente degli ottimi piatti. Tutti i nostri piatti, sia gourmet che le pizze, un'insalata, una colazione, possono essere anche da asporto. Basta telefonare al bar o richiederla alla reception. E adesso venite con me che vi porto alla bottega. Eccoci qua, questa è la nostra bottega, qui potete trovare generi di prima necessità, alimentari, freschi. Potete trovare la nostra gastronomia, rigorosamente fatta dal nostro chef. E soprattutto se volete potete prenotare pane, brioche e latte la sera per la mattina successiva. Grazie a tutti i nostri piatti, qui potete trovare la nostra bottega.